Buongiorno, rieccoci con gli aggiornamenti. Ho deciso di sviluppare dei video in cui discuto molto brevemente nuovi studi con nuovi risultati che ritengo essere interessanti per me e per le persone che mi stanno seguendo. Questo è uno studio sempre epidemiologico del gruppo di Boston di Willett Hu, l'ultimo nome è Andrew Chan, uno studio di 170.000 donne dello studio delle infermiere di Boston, Nurse Health Study, seguite per ben 32 anni. Durante questi 32 anni, ogni circa 4 anni sono stati eseguiti, somministrati dei questionari dietetici, dei Food Frequency Questionnaires e in questo studio si è studiata l'associazione tra il consumo di prodotti di origine animale, plant-based diets, e il rischio di sviluppare patologie infiammatorie dell'intestino, in particolare il morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa. In breve, in soldoni, quello che hanno visto in questo studio di associazione è che un consumo di verdura e frutta si associa a una riduzione del 33% del rischio di sviluppare rettocolite ulcerosa. Al contrario, un consumo di cereali raffinati processati, quindi di farine raffinate processate, di cereali raffinati come l'eliso bianco ed altri, e il consumo di bevande zuccherate e di dolci e dolciumi, sweets and desserts, praticamente aumenta il rischio di morbo di Crohn, di sviluppare il morbo di Crohn del 67%, e aumenta il rischio di sviluppare rettocolite ulcerosa del 65%. Sostituire invece il consumo di cereali raffinati, bevande zuccherate e dolci con una quantità simile di verdure e frutta riduce il rischio di entrambe le patologie infiammatorie dell'intestino. Quindi in Soldoni questo studio conferma concetti di cui vi ho già parlato, che una dieta vegetariana o comunque una dieta di per sé ricca di cibi di origine vegetale, non è un sinonimo di salute di per sé. Quindi dovete stare molto attenti a farvi irritire in questi schieramenti, perché vedo molte persone che sposano la fede vegetariana o sposano la fede della paleo diet o del digiuno in maniera cieca, senza capire quali sono i meccanismi, senza capire che ci sono diversi fattori che regolano e in questo studio, come del resto avevo già visto in degli studi che avevo fatto negli Stati Uniti su vegetariani, l'atto o vegetariani e vegani, non significa nulla essere vegetariano o vegano di per sé. Queste persone che seguivo, come in questo studio, consumavano un sacco di cereali raffinati, bevande zuccherate, dolci, dolciumi di origine vegetale, quindi non contenevano nessun prodotto di origine animale, quindi loro pensavano che questo fosse garanzia di salute. In realtà quando noi andavamo a vedere il profilo cardiometabolico di queste persone, queste persone erano infiammate, avevano dislipidemia, ipertensione, diabete o prediabete. Quindi ripeto, non fatevi ingannare, non fatevi trasportare da questo desiderio di schierarsi e diventare un adetto, un seguace di una certa fede che possa essere politica rilegiosa o in questo caso nutrizionale. Usate i dati, cercate di capire come funzionano i meccanismi in maniera che poi una persona possa fare delle scelte oculate basate su meccanismi metabolici e fisiologici e non su credenze o appartenenze a particolari fedi. Se questo video vi è piaciuto e ne volete ascoltare altri, cliccate mi piace e soprattutto condividete con i vostri amici e i vostri parenti. Vi saluto e grazie.